buon di fioi buon di toso buonasera fioi buonasera tose dipende da che ora guardare sto video come andemo spero ben ciao a tutti io sono stene da treviso con furore e con ben ritrovati su stene channel e bentornati su stene live in versione flash anche se è palesemente on demand questo video lo condividerò sul gruppo serie chat girone b ciao marco ocra enrico morselli tutti i ragazzi e ragazze della community grigliatori mi raccomando un bel like sulla pagina facebook latana zello brudi enrico morselli anche su quella pubblica serie girone b mentre invito tutti i tifosi simpatizzanti delle squadre inserite nel girone b della serie c a prendere parte della community privata serie girone b come già premesso nel video di ieri oggi ho seguito su tirò san benedettese gli altri tesini ritornavano a disputare una gara al druso dopo i lavori di ristrutturazione dell'impianto e contro si sono trovati la san benedettese di mauro zironelli fresco neotecnico dei marchigiani ha lasciato subito zero un po di stucco tutti quanti perché ha escluso dall'undici iniziale ruben botta però è una mossa che oggettivamente si è rivelata azzeccata perché all'inizio la san benedettese ha preferito la spada al fioretto e quindi ha escluso il fantasista argentino che poi è entrato nella ripresa e oggettivamente la manovra che comunque aveva funzionato bene per tutti i 90 minuti si è un po vivacizzata per quel che concerne i rosso blu quindi un buon punto che sicuramente rende merito a quel poco di lavoro che ovviamente zironelli ha fatto in questi giorni e anche al presidente domenico serafino appunto scegliendo questo allenatore sembra aver azzeccato insomma una pedina importante all'interno dello scacchiere samb dall'altra parte il sud tirol ha disputato la sua onesta partita anche i biancorossi altoatesini arrivavano da una sconfitta in quella dell'eugano di padua che poteva essere insomma a livello anche psicologico abbastanza importante invece la squadra di vecchi ha giocato come sa e nel contesto generale insomma è venuto fuori un match gradevolissimo durato 94 minuti che si poteva sbloccare da un momento all'altro ma ciò non è avvenuto ovviamente sia per un po anche di imprecisione da parte di chi ha calciato in porta ma soprattutto anche perché oggettivamente le difese hanno prevalso sugli attacchi nella prima frazione direi primi 20 minuti a pannaggio della squadra di zironelli che ha avuto due occasionissime con shaka mabuli e la seconda parte della prima frazione tutta tinte biancorosse perché prima fabbri ha chiamato all'intervento nobile poi tight ha avuto un'occasionissima con una conclusione che è uscita veramente di centimetri poi nella ripresa è entrato ruben botta come già vi ho accennato la manovra della san benedettese ne ha beneficiato con l'ingresso del suo fantasista peccato per l'uscita di maxi lopez infortunato quindi un po si sono secondo me scombinati i piani tecnico tattici della squadra di zironelli stato il fatto che comunque la sfida è proseguita fino al 94esimo direi da segnalare due occasioni una per parte una bomba di angiulli da fuori area che il portiere polizzi alzato alla grande sopra la traversa mentre dall'altra parte in pieno recupero una semi rovesciata di finca è stata parata da nobile con un intervento estremamente decisivo appunto nel computo finale di questo 0 a 0 due squadre comunque che mi sono sembrate estremamente in salute che potranno dire la loro ovviamente nel corso di questo campionato che comunque è estremamente lungo analizzando poi questa ottava giornata mi aiuto con la grafica allora sappiamo già tutti dell'arachiri di ieri della triestina in quella di arezzo poi si sono disputate quest'oggi fermana carpi quindi carpi corsaro in quel di fermo con una rete di carletti rete che vale in tutto e per tutto il primato momentaneo in classifica per la gioia del mio amico stefano forghieri al quale faccio anche gli auguri di buon compleanno nuovamente li ha compiuti ieri però glieli rifaccio tanto non porta sfiga il giorno dopo mi spiace per il mitico marco rossetti che oggi ovviamente avrà un po le balle girate dopo due vittorie di fila dei suoi canarini a proposito di canarini c'è stata la sconfitta interna del modena ad opera del perugia che con una rete di murano porta a casa l'intera posta in palio dal braglia e quindi perugini che si assestano in coabitazione proprio con il carpi in testa alla classifica mantovevolese è terminata 0 a 0 come su tirò san benedettese la virtus verona si imposta per 1 a 0 sul matelica si stanno giocando in questo momento le altre tre partite dello spezzatino domenicale legnago salius per api salò ferma sull'uno a uno mentre ravenna al mafano e vispesa rogubbio sono al momento sullo 0 a 0 domani sera poi posti ci pone di lusso trasmesso da rai sport ovvero cesena padova bene ragazzi direi che il video si può concludere qui però prima di salutarvi quanto siete figli 13.600 iscritti su stenne channel o voi veramente mi volete fare esplodere di gioia e ci state riuscendo vi adoro vi voglio bene grazie cuore a tutti e a tutte nessuno escluso sempre per merito vostro mi hanno sbloccato le storie su youtube quindi mi potete seguire anche lì cosa devo dirvi di più siete meravigliosi bene ragazzi il video si conclude qui per cui mi congedo come sempre dicendovi che ve voglio bene stime bene se vediamo al prossimo video alla prossima live o alla prossima puntata di stenne live in versione flash che sarà palesemente on demand ciao a tutti ciao a tutti